Contro i rincari di luce e gas, il comune di Lecco si gioca la carta dei bonus. L'amministrazione ha approvato una misura di sostegno al reddito che riconosce un rimborso del 50% dell'importo complessivo di bollette di luce e gas relative al periodo dicembre 2021-marzo 2022 fino a un massimo di 300 euro. La misura, chiamata Buono Bolletta, Lecco solidale, è destinata ai nuclei familiari residenti in città con un Ise ordinario in corso di validità fino a 8.265 euro oppure con un Ise corrente nel caso di variazione della situazione lavorativa per almeno un componente del nucleo, una variazione della situazione reddituale complessiva superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'Ise ordinario. Accanto al quotidiano lavoro di accompagnamento da parte dei servizi sociali, commenta Emanuele Manzoni, assessore alla partita, abbiamo pensato fosse utile in questo momento sostenere le famiglie anche nel pagamento di gas e luce. Non si tratta certo della soluzione definitiva, prosegue Manzoni, ma può essere un aiuto concreto per chi rischia nell'immediato di non riuscire a far fronte a questa impennata imprevista delle bollette. La domanda potrà essere presentata una sola volta dal 31 marzo al 30 giugno prossimo. A giorni sarà disponibile il modello sul sito internet dell'amministrazione. L'iniziativa non è piaciuta a Corrado Vassecchi, il consigliere di Appello per l'Ecco, che negli scorsi giorni ha chiesto con due mozioni interventi concreti contro i rincari. Mi dispiace ma non ci siamo, commenta, si preferisce ricorrere all'emosina di Stato, dove i cittadini saranno costretti a chiedere al Comune, con un iter burocratico e fastidioso, di avere 300 euro in cambio di un aumento spropositato e ingiusto delle bollette di gas e luce. Non vogliamo l'elemosina, ma un fisco giusto ed equo.